Dal 15 febbraio è entrato in vigore il nuovo piano anti-smog condiviso da ben 10 comuni dell'area pordenonese, 147 mila residenti interessati pari al 47% della popolazione dell'intera provincia. Il piano è stato elaborato in ossequio a quello che è il dettato della normativa regionale e prevede delle limitazioni al riscaldamento e all'accensione dei fuochi all'aperto e anche alla circolazione stradale. In quest'ultimo caso finalmente vanno in soffitta le targhe alterne sostituite da un divieto stagionale di accesso all'area centrale per i veicoli maggiormente inquinanti. In particolare dal 15 ottobre al 7 dicembre e dopo la pausa delle festività natalizie dal 15 gennaio al 31 marzo i veicoli alimentati a benzina Euro 0, Euro 1 Euro 2 e quelli diesel Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 e anche i ciclomotori Euro 0 ed Euro 1 non potranno accedere tutti i giorni della settimana eccetto il sabato dalle ore 16 alle ore 20 all'area interna al ring cittadino. Questo provvedimento ha un carattere educativo, preventivo e consente anche ai cittadini di programmare le proprie attività e i propri spostamenti in modo tale da limitare i disagi. Sono previste delle deroghe, in particolare i divieti non varranno per i veicoli a servizio delle gestanti, per i veicoli a servizio delle persone sopra i 65 anni di età e per i veicoli condotti dai residenti nell'area centrale che quindi non subiranno alcuna limitazione. Grazie a tutti.